Mi sembra che siano stati individuati tantissimi spunti per riflessioni, momenti di confronto, per attività, per possibili incontri, per pianificare al meglio attività di coinvolgimento dei cittadini in sanità. Ci accengiamo all'ultima presenzazione che sarà praticamente effettuata dal dottor Maurizio Abbonati, direttore del Dipartimento, capo del Dipartimento di Sanità Pubblica, che praticamente avrà il compito un po' di fare la sintesi di tutti i contributi di questo pomeriggio e di indicare quali sono le possibili prospettive future. Grazie. Roberto? No, fin troppa roba. Penso invece di fare due riflessioni su quanto ho sentito, ringraziandovi dell'invito a partecipare. La sensazione è un po' più come quella del signore bancario in pensione. Direi che uno forse ha delle indicazioni e sicuramente che c'è qualcosa da definire. È iniziato Garattini, insomma, ha detto qual è il... in che contesto siamo? Siamo in un contesto molto particolare rispetto a quello della situazione italiana, in cui c'è un'ignoranza o un grande analfabetismo sanitario, che è molto diverso da quello che c'è anche in altre realtà europee. E questo qui dobbiamo metterlo. E quindi è il punto di partenza. forse è questo il primo... dove stiamo andando, ma per che cosa fondamentalmente? E questo qui è il contesto. Stamina c'è, citava Stamina, perché c'è stata in Italia e non c'è stata da un'altra parte. Perché si discute di sperimentazione o perché si discute della rimborsabilità ancora delle vaccinazioni, come quello del discorso di ieri o tutto quello che si vuole. Perché qui fa notizia e da altre parti no. Questo sarebbe già interessante cercare di rispondere per dire, ma mi sembra in un contesto come questo che sia importante definire chi è l'interlocutore, chi sono, chi deve fare, che cosa. Paolo Mosconi, a Genas, da sottolineare anche per altre ragioni il buon connubio, direi, delle due realtà, e che sia foriero di ulteriori, di future attività, che cosa dicono? Ma io le ho letto dicendo, ma sì, qualcosa si fa, è possibile fare, ma con chi e per che cosa e che tipo di valutazione, perché rimandare alla valutazione degli interventi di altri quando poi bisognerebbe valutarli questi tipi di interventi. dieci anni di attività, sì, si è prodotto, ma usando quali strumenti e quali, a dirà delle sensazioni del piacere, ma fondamentalmente perché richiedi un'evidence base molto ristretta per un intervento e dall'altro ti accontenti di dire qualcosa abbiamo fatto e c'è una risposta. Perché tutto ciò? Almeno questa è una riflessione delle cose sentite. Beh, la prima è che, secondo me, è necessario fare un chiarimento subito. Associazioni. Questo tipo di attività non deve rivolgersi alle associazioni, men che meno a quelle di pazienti. L'intervento è stato chiaro. Non sono un'associazione. E se è un'associazione, che tipo di associazione è? Se è già costituita, ha già una finalità. Se è il cittadino o l'insieme di cittadini è diverso. Questo mette in discussione che cosa? Che l'intervento, che tipo di intervento dobbiamo fare, è rispetto al singolo, alla popolazione, al gruppo, ma se è un gruppo già determinato, ha già delle sue finalità, ha già delle sue... E se non è determinato, come devo costituirlo? Non mi rivolgerei allo solo medicine, ma allo solo food, per intendersi, se devo aggregare e fare qualcosa. Dall'altro è, ci sono delle competenze che non possono essere sostituite. E allora, di che cosa deve essere informato il singolo rispetto a... Perché qui c'è stata un po' di confusione, insomma. Devo informarlo quando, nel momento in cui ho bisogno, lui, il singolo? Non necessariamente. Se devo coinvolgere in un processo decisionale, in qualsiasi momento deve essere. Ma chi partecipa a questo processo decisionale? Anche quello che è stato visto anche in ambito di percorso diagnostico-terapeutico. Tutto orientato già al problema, al singolo problema. Posso prevenire dicendo no, parlo di tumori, nessuna associazione di pazienti tumorali. Ma questo non mi dice che tipo di contributo. E allora qui c'è anche un problema di formazione e di informazione che rimanda anche a compiti e responsabilità. Che compiti, ma qual è il terreno che uno deve definire? Non è che siamo nell'ambito dell'educazione e della formazione, perché tennò è un altro settore. o nel recupero dell'analfabetismo di ritorno, ammesso di ci sia, o nell'ambito educativo, anche perché altrimenti abbiamo competenze in modi diversi. Allora, o stabiliamo che c'è un livello e quello è il livello di conoscenza che tutti devono avere, o altrimenti è difficile in ambito sanitario. Scorso di Satolli su il potere che era quello di Macaccaro, ma fondamentalmente è un potere perché c'è conoscenza. Dove non c'è conoscenza, c'è potere perché c'è conoscenza. In realtà la storia ci fa vedere anche ultimamente alcuni esempi che c'è potere anche nell'ignoranza. Quindi purtroppo questo è un'altra cosa. Non ho avuto sufficientemente tempo per vederlo o per prendere porno. E tanto più in medicina. La lungimiranza di vedere medicina e potere, ma fondamentalmente quello che constatiamo. Ma nelle stesse relazioni di oggi. nel momento in cui il potere decisionale e qui l'errore dell'HTA visto in questo modo è fatto esclusivamente di costi e di prezzi, l'HTA non è nata per quello. È nata per tutt'altre ragioni. E non sono come del resto ogni intervento sanitario non è nato negli uffici e non viene preso negli uffici appropriati. ogni intervento passa dal Ministero dell'Economia in Italia. Questa è la presunzione nel momento in cui devi giustificare il budget, nel momento in cui devi giustificare entrambi. E non dalla sanità. Quindi a chi ci rivolgiamo e per che cosa? Questo rimanda a un altro problema essenziale di cui non se ne è parlato che può andare a responsabilità. Non è possibile sentire una relazione sull'HTA da parte di un ente istituzionale senza mettere in discussione le responsabilità. e quindi anche in questo caso la responsabilità di chi? Ma rispetto all'informazione di che cosa? Allora anche in questo caso forse andrebbe meglio meglio identificata. Perché non funziona e non funziona il ruolo delle associazioni già preposte. Perché non hanno potere ma fondamentalmente perché non hanno mandato. Non hanno mandato. Si può il gruppo dei cittadini può essere dare indicazioni esprimere giudizi ma non c'è l'interlocutore. Oggi è l'interlocutore se è un mandato preciso. E un po' anche in questo caso si è parlato di rappresentatività. È un problema del mandato. Sono un rappresentativo che è diverso da quello in cui chiedeva o chiedeva ragione anche in ambito di genere manca il discorso della rappresentanza. Castagnaro forse citava è un'altra cosa rappresentanza rispetto alla rappresentatività. Da una parte c'è un mandato dall'altra un insieme che è un bollino. ed è un po' il discorso del singolo e della popolazione tra fondamentalmente tra chi è eletto e poi no ma fondamentalmente c'è anche in questo caso si può avere potere e recuperare potere quel potere dato dalla conoscenza se il gruppo dei cittadini ha potere e il potere e il potere può solo averlo se si trova qualcosa una forma non di delega ma fondamentalmente di mandato che è ben diverso. E il problema della delega è l'eterno dilemma perché fondamentalmente stiamo discutendo di qualcosa in una realtà italiana in cui perché tutto questo è perché si reclama la voce del cittadino di un cittadino attivo e anche lì che cosa vuol dire attivo è attivo per quanto ma fondamentalmente si cerca di un cittadino che delega e che non delega a qualcun altro che ha competenze perché non tutti devono essere medici ma che trova un interlocutore non so qual è l'ideale di ciascuno e quali sono le prospettive non vorrei banalizzarlo ma pensavo prima di dire come qual è il futuro futuro più o meno dovrebbe essere questo guidiamo la macchina ancora più o meno tutti e quindi rientra nel discorso di generalizzarlo utilizziamo qualcosa che è il pensavo sento un rumore al motore vado dal meccanico e gli dico c'è il motore e delego me lo aggiusti me lo sistemi l'aspetto positivo qual è beh gli porto una macchina c'è un rumore nel momento in cui lo avvio penso sia la cinga di trasmissione dice tutta la sua cosa ma si potrebbe essere però vediamo no è il motore in avviamento sono le puntine del motore in avviamento che fa la stessa cosa perché quando va dopo un po' non funziona è la stessa cosa che ho visto io cioè uno è meccanico medico quell'altro è un cittadino autista normale guidatore è meccanico ingegnere no sa due cose che è l'abc di quello che ti fan fare alla scuola guida che si sarà dimenticato ma che poi fondamentalmente c'è che dovrai recuperare nel tempo non ci mette mano lui ma non delega e dice ok quanto è e che cosa mi hai fatto entra nel merito e discute anzi c'è una relazione tra il meccanico e lui e si discutono magari sui vari tipi di conduzione del motore ecco non so se è questo quello che si vorrebbe o che si potrebbe auspicare certo è che bisogna chiarire anche di che cosa deve essere su che cosa deve essere attivo e per che cosa chiunque tutti i cittadini perché questo è il problema diverso è quando paziente perché altrimenti no 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 e questo ritorno e chiudo insomma sono riflessioni puntate lì forse rimandano ad altre ad altri momenti anche di riflessione che hanno a che fare anche con gli investimenti e i tipi di progetti sarebbe di per sé interessante però in come c'era a identificare visto anche le rispondenti istituzionali che ci sono anche micro progetti ma fondamentalmente che partono da cittadini i veri non quelli che sono già orientati il signore che è venuto qua che ha visto l'annuncio ed è venuto ecco dicevo il gruppo folcloristico locale ecco che non siano caratterizzati già dalla medicina in qualche modo o perché è per bisogno o perché è già coinvolto è solo lì fondamentalmente dobbiamo definire che tipo di progetto fondamentalmente di conoscenza vorremmo avere almeno di base con diversi livelli ma fondamentalmente anche con diverse responsabilità chiedo della confusione ma forse grazie grazie a tutti